Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È successo un'altra volta, è clamoroso, ma attenzione perché il racconto non cambia mai. Va sempre da una parte e questa volta è il mitico Graziano Cesari, ex arbitro della sezione di Genova, che ci racconta come mai lo stesso identico episodio cambia in base al colore della maglia. Allora andiamo a rivivere i due episodi che stanno facendo discutere tantissimo, hanno fatto discutere tanto anche negli studi di pressing. Graziano Cesari si è preso anche qualche schiaffetto morale da parte di Ravanelli e non solo. Ravanelli sappiamo che ultimamente quando si tratta di criticare la Juventus ci va giù pesante, scusate, ma in questo caso purtroppo anche lui non può negare la realtà. Andiamo a sentire le parole che diceva Graziano Cesari per quel che riguarda l'episodio successo qualche giorno fa, che ha portato poi il primo gol nella partita dei Merdazzurri contro Lempoli, dove per tutti era doppio fuorigioco, per lui invece assolutamente no perché attenzione il regolamento cambia ma dipende dalle partite. Ce lo spiega lui, andiamo a sentire le sue parole e poi andiamo a leggere che cosa è invece raccontato per quel che riguarda l'altro episodio, praticamente identico solo che la palla era un pochettino più in alto, dove però c'è di mezzo la Juve un calcio di rigore possibile, calcio di rigore che poi è stato tolto dal VAR, che è stato molto preciso di intervenire e puntuale, cosa che non si può dire di tutte le partite. Lui ci spiega perché in quel caso lì invece il VAR ha fatto benissimo. Prima di partire con il vero e proprio contenuto, come sempre, io vi invito a mettere un bel like a condividere perché dobbiamo capire e far capire che può succedere lo stesso episodio, basta raccontarlo in maniera differente ed ecco che ti cambia il senso e soprattutto il giudizio dell'arbitro perché tutto ormai va ad interpretazione. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attivo, la campanellina per rimanere sempre aggiornato, ogni qual volta uscirà un nuovo contenuto. E adesso partiamo con le parole di Graziano Cesare e andiamo a vedere anche l'episodio, sperando che l'algoritmo non faccia brutti scherzi. Andiamola a vedere. Allora andiamo a vedere le immagini di questo codice di Marco che comincia con questo passaggio di Pavard lungo. Attenzione, guardate, cerchiato è l'assistente Valeriani. Probabilmente è posizionato meglio di tutte le telecamere dello stadio, che ha tutto visibile davanti a lui. Ha tutto visibile davanti a lui, già si vede che quello è fuorigioco, lo vediamo da qua, però non viene rilevato dall'arbitro. Sentiamo che cosa dice Graziano Parchesi, la rante. Quindi vede esattamente. Quindi non so se possiamo parlare di fuorigioco oppure no, però lui fa continuare l'azione. Se avesse avuto il sentore del fuorigioco, avrebbe fermato qui il gioco, in questo momento, quando Turam si... E invece no, perché non sappiamo che il regolamento dice che devi far terminare l'azione. Turam non aveva terminato l'azione, quindi già qua Cesari stai raccontando due menzogne in una. Uno, che il guardalino lo vede diretto, che quello è fuorigioco. Due, che doveva fischiarlo in quel momento lì. Sappiamo tutti che deve finire l'azione. Non finisce, anzi, attenzione a quello che succede adesso perché qui andiamo a capire il senso del contenuto. L'azione continua. A questo punto lo fermo prima io perché lui adesso fa un fermo immagine. Se avete visto la palla va al difensore dell'Empoli con un rimpallo. Turam cerca di dribblare un altro giocatore che interviene sul pallone. Il pallone schizza verso il centrale di difesa che lo rinvia. In questo momento lo rinvia. Qui è stato bravissimo Graziano Cesari a fermare il fotogramma. Ricordatevi sempre la truffa del fotogramma. A fermare in quel momento, proprio mentre il giocatore in un secondo gli arriva la palla e pensa solo a rinviare. Lui blocca lì l'immagine e vi fa vedere la fotografia. La fotografia che cosa dice? E lui, naturalmente, vi cambia il racconto. Quindi da un rinvio affannato, visto dell'attacco dell'Inter che pressava in quel momento, a una giocata tranquilla. Tutto in un fotogramma. Guardate Beresischi. Vi ho fatto una piccola area per dire che Beresischi gioca il pallone. Beresischi non intercetta il pallone. Rinvia, non gioca, rinvia. No, gioca il pallone. No, no, rinvia. Scusatemi. E' diverso da giocare. In questa posizione c'è un pallone rasoterra. Beresischi non ha nessun giocatore dell'Inter che va a contrastarlo. Anzi, è attorniato da maglie bianche. Andiamo avanti. Avete capito? Nella foto è normale che lui è libero. Perché è un fermo immagine. Nell'azione, nella velocità naturale, è un rilancio frenetico per liberare l'area di rigore. Quindi, la giocata non è un'azione nuova. Quella non è una giocata fatta. Quello è un rinvio dato dal fatto che stavano pressando. Ma lui, giustamente fermando il video e facendoti vedere quel rettangolino che ti ha fatto, che ti ha mostrato tanto bello, ti ha cambiato letteralmente la realtà. Fortunatamente qualcuno in studio non c'è stato al gioco e si è un pochettino ribellato al racconto del volere popolare. Perché ricordiamo che questo è il racconto del volere popolare. C'è sempre un episodio che fa discutere. Però, guarda caso, le decisioni vengono prese sempre a senso unico. L'Empoli, in questo momento Berzinski può fare quello che vuole. Può prendere il pallone, può rinviarlo, può passarlo a un compagno. Cosa decide di fare? Proprio il momento il giocatore dell'Empoli gioca il pallone. È una vergogna che quella venga considerata un'altra azione. Perché il giocatore dell'Empoli è un'azione dell'Inter pressante. Rinvia la palla. Esatto. È ancora più vergognoso che si possa permettere a un commentatore, perché ormai è diventato un commentatore e neanche più un opinionista, di raccontare determinate cose e di stravolgere la verità. È ancora più vergognoso che due giorni dopo, due giorni dopo, succede lo stesso identico episodio a favore della Juventus dove viene fischiato un calcio di rigore, dove però, attenzione, lui scrive tutt'altro. Ce lo ricordiamo contro la Lazio non per recriminare quel calcio di rigore perché noi juventini siamo stati i primi a dire che nella partita contro la Lazio di campionato manca un calcio di rigore ai giocatori della Lazio. Quindi non stiamo recriminando niente. Tra l'altro poi la Juventus ha pure vinto 2-0. Però il racconto che fanno i media non ci sta. Perché nell'azione è stato uguale identico, uguale identico, quello della Juve con quello dell'Inter. Solo che la palla era alta. E allora che cosa ci racconta il nostro Graziano Cesari? Andiamolo a leggere assieme perché ha dell'incredibile. Dopo aver ascoltato la sua testimonianza, il suo racconto, la sua giustificazione per quel che riguarda il dare il gol all'Inter, perché una volta che il giocatore ha rilanciato il pallone, quella è una giocata, per lui quel fermo immagine di quel secondo in quel fermo immagine poteva ragionare. E quindi sono due azioni differenti in nemmeno un nanosecondo. Per quel che riguarda invece la Juventus, attenzione perché cambia il racconto. Juve Lazio Cesari spiega il rigore è tolto da massa, la regola sul fuorigioco è cambiata, ma è polemica giustamente. L'ex fischietto ci racconta e ci spiega il suo pensiero. La spiegazione di Cesari sul calcio di rigore, eccolo qua, in Juventus Lazio, l'ex arbitro della sezione di Genoa ha scritto prima la sua su Sportmedia7.it una decisione corretta perché secondo le interpretazioni arbitrali più recenti, quella del difensore laziale non può essere configurata come giocata, che di solito è valutata come tale se il protagonista gode di libertà nel colpire la palla. E molto spesso, cioè questa ce l'aggiunge lui, aggiungiamo ad cazzum quello che vogliamo, è molto spesso con la palla bassa. Poi Cesari ha chiarito meglio il concetto nel corso del studio, nel post partita condotto da Monica Bertini, Patrick non ha il controllo pieno del pallone e ha un avversario vicino, McKennie. Badate bene che è cambiata la regola, attenzione, effettivamente è vero, ogni volta che la Juventus ha un episodio uguale a quello degli altri, la regola cambia sempre, ce lo ricordiamo con i famosi calci di rigore che fischiavano continuamente ad Elite per i tocchi di mano in aria, cose che in aria di rigore delle altre squadre non è mai successo. è una vergogna che lo stesso commentatore a distanza di due giorni ti stravolga la realtà su un episodio praticamente identico, tenendo conto che Cambiasso era fuori dall'azione e colpendo di testa il calciatore della Lazio passa la palla a un suo compagno, quella è molto più giocata rispetto a quella che ha fatto l'Empoli che rinvie il pallone dandolo all'Inter che era lì in pressione azione partita da un fuorigioco, tutta l'azione partita da un fuorigioco, fuorigioco non di un calciatore come Cambiasso che il pallone non l'ha toccata e che nell'azione non c'è entrato fino all'ultimo, fuorigioco di un calciatore che ha fatto partire l'azione, Turam, però Graziano Cesari questo qua giustamente non te lo può raccontare, perché altrimenti dobbiamo raccontare il fatto che il VAR funziona sempre solo a senso unico, e questo i media non vogliono fartelo sapere. È una vergogna che cambia sempre il regolamento, ogni volta che l'episodio è uguale capita a due squadre con le maglie di colori differenti. Detto questo il video finisce qua, come sempre se sei arrivato fino a qui se sei un super eroe non ti rimane che mettere un bel like, commentare qua sotto con il tuo pensiero, condividere la manetta a questo video e perché no iscriviti al canale e attiva la campanellina che sono due azioni totalmente gratuite. Noi ci vediamo al prossimo contenuto, io vi saluto, un abbraccio a tutti e ciao!